Gli elementi caratterizzanti di questa mostra e anche dell'artista sono quelli di mettere su una luce diversa, sotto un obiettivo diverso, le donne africane. Quindi c'è un'insistenza della fotografa, dell'artista camerunense, quella di rappresentare una donna che sia fiera di se stessa, padrona della sua vita e che comunque faccia parte dell'universo femminile alla pari con tutte le altre donne. Io ho vissuto per tantissimi anni in Africa, proprio vivendo lì e per vent'anni mi sono occupato di emergenza umanitaria e quindi conosco l'Africa nel suo profondo, nelle sue difficoltà, nel suo modo di essere e come vengono affrontate dalla società e dalle persone che vivono in Africa quello che è la loro difficoltà di vita. Sicuramente c'è un cambiamento anche nella società camerunense nel portare a un nuovo ruolo della donna, anche se non nascondiamo le difficoltà e l'arte è uno di questi modi di portare alla giusta conoscenza, alla giusta parità, quello che le artiste donne possono portare nella storia dell'arte contemporanea. La mostra sarà al Museo Intrastevere fino al 6 di ottobre nel cuore di Roma e vi invitiamo perché è un museo dedicato alla fotografia e questa mostra ne fa parte in maniera molto bella.